Luciano Salvò, due legislature da assessore alla provincia di Padova, oggi sindaco di Villafranca a Padovana, nonché vicepresidente dell'Interporto Euganeo. In questa veste è stato coinvolto nella clamorosa inchiesta dal nome eloquente Pantano che ha coinvolto una trentina di persone. Per Salvò la questione potrebbe riferirsi ad un consistente appalto in cui, secondo l'accusa, avrebbe in qualche modo condizionato la gara per l'assegnazione dei lavori. Un autentico fulmine a ciel sereno, mediatico ed umano per il diretto interessato. Su questa cosa che apprendo dai giornali posso dire soltanto che non ho poteri operativi all'interno della struttura dell'Interporto, sono cose che gestiscono, che gestisce il management, per cui non posso assolutamente avere partecipato in alcun modo a ledere i diritti di chi che sia. Proprio su questa cosa, anche per capire esattamente la dimensione di quello di cui stiamo parlando, perché ad oggi mi sfugge ancora, ho incaricato il mio legale oggi di inoltrare richiesta al pubblico ministero per essere ascoltato, per essere interrogato quanto prima. Ora l'attesa per il confronto con il magistrato, che secondo Salvò finalmente chiarirà di cosa è realmente accusato. Certo che ho la necessità e l'urgenza di confrontarmi con il magistrato per chiarire completamente la mia posizione, mi sento sereno nella questione, ovviamente completamente estraneo anche i fatti contestati, così come li apprendo dai giornali, ho bisogno appunto di verificare con una persona che è in grado anche di comprendere la mia posizione.